A proposito di Biogem, la città di Ariano è praticamente unanimemente convinta di trovarsi di fronte a un centro di statura internazionale, di questo che ne posso dare atto io, di una eccellenza non semplicemente meridionalistica, ma questo è un dato insomma, è un dato praticamente acclarato, però fa bene a un certo momento sentirlo dire, praticamente è un centro di rilievo internazionale, però dicono che la gestione è esclusivista, lei a questo proposito cosa dice? Visto è considerato che è magna parza. Significa gestione esclusivista, vogliamo organizzare una sorta di assemblearismo paesano intorno ad una istituzione internazionale, questo è al fondo la sottolineatura negativa. Io le dicevo, mi è capitata questa tegola perché io non immaginavo di dovermi impegnare io nella gestione, ma nel 2005 erano finiti i soldi per la costruzione ed erano finiti anche i soldi abbondantissimi per l'avvio delle attività. Biogem sarebbe stata una delle classiche cattedrali incompiute, come tante ce ne sono nel mezzogiorno. Io allora ho dovuto rimboccarmi le maniche e realizzare intorno a Biogem un reticolo di rilevantissime relazioni che potessero dare credibilità a questa piccola, nascente e in qualche modo asfittica perché inizialmente noi siamo nati senza fondi, essendo stati esauriti i fondi cospiti. Sappia direttore che Biogem aveva avuto 50 miliardi dallo Stato, metà per la costruzione e metà per l'avvio. Nel 2005 non c'era più una lira né per l'avvio e non era completata. Praticamente l'ospedale è in difficoltà, obiettivamente è in difficoltà, il genio civile sta dove sta. È rimasto però, è rimasto perché un consigliere regionale è riuscito comunque ad ottenere che rimanesse dove sta. Diciamo le cose come sono. La caserma dei Carabinieri, lei sa che cosa è successo e via di seguito a questo. Ma resta nonostante che cosa? Perché la colpa della caserma dei Carabinieri, direttore, ma di chi è, se non degli amministratori provinciali che non hanno provveduto, perché il problema non si è posto per una scelta come per il Tribunale di carattere politico generale, si è posto il problema della inidoneità dei locali, che sono di proprietà della provincia che avrebbe dovuto da tempo provvedere. Noi abbiamo avuto anche esponenti provinciali, ma che cavolo hanno fatto questi personaggi che parlano e sparlano su tante cose? La caserma è il segno dell'inefficienza della provincia, dal Presidente agli Assessori, punto e basta. Allora praticamente Gambacorta non è il suo candidato. Ma Gambacorta non è il mio candidato perché ha la sua autonomia, naturalmente è un giovane che io ho apprezzato fin dall'inizio perché lo considero una persona intelligente, ma che insomma ha fatto le sue scelte e quindi insomma non è una mia diretta espressione. Ma io non ho più diretta espressione, perché come vi ripeto io ho cancellato… Ma c'è eredi politicamente? Ma sono tutti i miei eredi. Gambacorta è certamente un mio allievo, se posso dire, se non si offendesse per questa espressione, ma credo che non la potrebbe neanche rinnegare. E ce ne ho tanti, tantissimi. Naturalmente, come sempre capita, le scuole non restano mai poi compatte, specialmente quando finiscono le ragioni ideali, ideologiche, quello che le ho già detto. Quindi sono tanti i miei allievi, alcuni continuo ad apprezzarli, molti hanno tradito lo spirito, vero e non mi faccia fare i nomi, hanno tradito lo spirito di politica, io questa espressione, la politica come servizio la considero un po' farisaica, cerco di evitarla, però ho insomma la politica come disinteresse rispetto agli affari privati, questo possiamo dirlo. Questo è stato il dato che ha caratterizzato, diciamo così, il mio essere, se così mi si lascia correre l'espressione essere capo scuola, alcuni hanno tradito questa posizione e sono completamente fuori, altri come Gambacorta hanno scelto posizioni diverse, ma insomma siamo nell'area del popolarismo, lei sa che io ho questo puntiglio ideologico.